Ecco qua la mia colazione di oggi Dico due bustine a una No, una va bene, una la metto nello yogurt Cappuccinone e mi sono presa questo pacco di biscotti al suo mercato che mi sembrano abbiano dei buoni valori hanno olio extravagine su una base di soia e di avena mi sembrano veramente veramente buoni ragazze comunque li voglio e me li inzuppero nel latte cappuccino e poi lo yogurt greco che il mio amore sta preparando per me Sono a Caritas Shop perché è una bruttissima giornata e allora mi consolo così con latte e cappuccino a biscotti Buoni amore sono buonissime e super toccanti Sono promosso questi biscotti Ok, finirò tutto il pacco L'ho trovato al Conad E Dario cosa ha fatto? Un solito maialino Biscotti Nello yogurt Nello yogurt E' ben di altro Adesso me ne finisce tutti Ma quello ti devi mangiare Amore, ma basta ma perché mi finisci sempre tutto? Perché ti fanno male Maiale Ragazzi, sono a casa finalmente E vabbè Perdonatemi se in questo video Sarò un po' giù di corda In modo particolare Perché comunque Non sono belle giornate come me Cioè non sono belle giornate per me Oddio Mi fa fino anche a parlare E purtroppo C'è pupi Amore C'è dietro pupi Che cerca di tirarmi i capelli E niente In pratica Cioè non mi fa di parlarne Amore Ma lo smetti di tirarmi tutti i capelli? Vabbè Comunque Non mi fa di Tanto di parlarne Perché comunque sono Ci sono alcune cose Che sono così Profonde e delicate Veramente Veramente Intime Che Non sai neanche tu Diciamo se le devi dire Se non le devi dire Perché Tutto questo mondo Comunque di youtube Del web In generale È comunque qualcosa Di molto leggero No? E quindi Le cose poi Davvero Importanti Tristi Quelle che comunque succedono E ti fanno stare male Sembrano 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 un po' Indecoroso Dovenne parlare Non so come spiegavi Perché comunque Questo mondo tutto divertente Frivolo Insomma ci divertiamo I video Le challenge E queste cose Anche se spesso Io parlo della mia vita Però ecco di cose Non so tipo Malattie Lutti Queste cose qua Mi sembra proprio quasi Sminuire Una cosa così grande Portarla in questo mondo Quindi preferisco Non parlarne Però Una cosa ci tengo A dirvi Che ovviamente Quello che voi vedete Attraverso i video Che io vi faccio vedere No? Ma qualsiasi youtuber Qualsiasi persona Comunque un po' più popolare Che stiamo esposti Su Instagram Su Youtube Siamo comunque persone Normali Anche noi Succedono Non lo so I lutti Succedono Delle disgrazie Succedono Anche noi abbiamo a che fare Con ospedali Con malattie Con tante cose brutte Della vita Che secondo me Sono le cose più brutte Che possano esistere E se non Non ve lo diciamo Perché molto spesso Mi arrivano dei messaggi Dove mi dicono La tua vita è bellissima Ti invidio Ma anche verso altri youtuber Altri personaggi Insomma famosi Popolari La tua vita è bellissima Ti invidio Perché magari Vedo una persona Comunque in video Sempre sorridente Eccetera Ma anche noi Cioè siamo umani Non è che siamo immuni Da queste cose Anzi Semplicemente Noi decidiamo Cosa farvi vedere Io in particolare Preferisco escludere Tutto ciò Di veramente importante E serio Anche triste E pesante Che c'è nella mia vita Sia perché Non mi voglio ammorbare Voglio comunque Che siano i video Un momento Per stare bene Perché ovviamente Già la vita è difficile Metto pure a ammorbarvi No vabbè E quindi a volte Mi fa sorridere Questa cosa Che le persone Pensino che La nostra vita La mia vita Sia perfetta Quando non è assolutamente così Anche io Comunque a che fare Con disgazze Lutti Malattie Quant'altro Sofferenze Infatti vi ripeto Questi sono stati Veramente giorni terribili Per me Comunque per la mia famiglia Quindi basta Non aggiungo altro Però Veramente Non siamo immuni Siamo persone come voi Anche a noi Succedono queste cose Purtroppo E dobbiamo Semplicemente Farci forza E Andare avanti Perché comunque La vita continua Io sono una persona Molto ottimista Non mi abbatto mai Però A volte Faccio fatica Fortunatamente Avendo attorno Tante persone Che mi vogliono bene È più facile Per me Ritrovare il sorriso Però davvero Davvero Non è facile Vi ripeto Siamo come voi Anche a noi succedono Queste cose E Sono veramente brutti E spiacevoli E niente Questo vi volevo dire Quindi Vi ringrazio Per tutto il vostro supporto Il vostro affetto Veramente vale tanto Per me Soprattutto in questi momenti Basta Perché già ho pianto tanto E Basta Adesso cercherò Per tutto il video Di non pensare A questa cosa Di stare su E Vi voglio far vedere Infatti Una cosa Che mi ha fatto Tanto tanto piacere Di cui in tanti mi avete chiesto E poi dopo vi devo dire Un'altra cosa brutta Che succederà oggi E che riguarda La mia cagnolina Che lei Non sa di tutto quello Che le succederà Mentre io sì E quindi perciò Sto soffrendo doppiamente Questa giornata Ragazzi Adesso vi faccio scoprire Un accessorio Glamour Bellissimo Guardate che bella Questa borsa Io la utilizzerò Tutti i giorni Perché io vado Sempre camminando Con borse In cui ci metto Non so Anche dei quaderni Anche se è andata a scuola È fantastica Anche ci metto La mia borraccia Di Fitvia Guardate come bella Queste sono tutte novità Me le porto sempre dietro La metto dentro Poi ci metto Cose aggiuntive Perché nella borsa Non mi va mai nulla Quindi metto qua Prima metto una maglietta Le robe Ma anche come borsa È troppo bella Adorabile Vi devo dire la verità Che in questo periodo Non sto proprio mangiando Tanto tanto bene E infatti Mi sta aiutando tantissimo Questo qua Che è il nuovo tè Di Fitvia Black Glamour Tea Che vi giuro ragazzi Mi sta sgonfiando Tantissimo la pancia Perché sto mangiando Proprio tante tante Pizze Pasta Perché comunque È un periodo Un po' particolare Sono un po' stressata Quindi sto un po' sgarrando Di più Vi dico la verità Non solo la Carlita Proprio fit fit Di sempre E comunque È anche buonissimo Quindi diciamo Che mi aiuta Ma lo bevo anche Con piacere Insomma Perché Lo bevo tutti i giorni Mi piace tantissimo E in associato Ovviamente Alle slim caps Di Fitvia Quelle ve le straconsiglio Se volete perdere peso Compratele Perché veramente funzionano Oggi 24 È il giorno di Black Friday Quindi adesso Vi do anche il mio sconto E la mia promozione Stupenda Questo è troppo bello Praticamente per me È già la seconda confezione Perché io l'ho provato In anteprima Ed è troppo buono È tè nero Aromatizzato Buonissimo Ragazze Ve lo straconsiglio Super dolce E già ho visto Gli effetti drenanti Sul mio corpo Ma la cosa bella E super glamour È questa borsa Guardate un po' che bella Vi piace questa borsa È stupenda È sempre fatta da Fitvia È un accessorio glam Che potrete ricevere Il regalo Ma non solo questo Guardate tutti i cuoricini Nero intonato come me Allora Praticamente Se andate sul sito Fitvia E fate un ordine Oggi o domani Al massimo Comunque lo dovete fare subito Con il codice Carlita Glam Riceverete La borsa Riceverete Il tè In omaggio E riceverete Il colino Eccolo qua Troppo carino Anche questo glamour Poi Poi Intonato Intonato perfettamente L'ultima novità Ma è una super offerta Godete Godete Godetevi la vita Godetevi la vita E' una super offerta E' una super offerta Io lo so E' un fidanzato come Dario Il pensiero di comprarmi Al lavoro Stiamo lavorando tantissimo Quindi ovviamente Avremo bisogno di voi E quindi farete tutti i regali di Natale Sul carita shop Comunque ci saranno tante cose belle per voi Nel frattempo vi voglio far vedere Lui quindi mi ha dato sto regalo Ho detto Amore scusa ma perché mi hai fatto questo regalo E lui ha detto Perché il mio amore era triste E allora io le ho fatto un piccolo regalino E' troppo tenero E allora Guardate cosa c'è Ci sono queste calze Cioè veramente sono tipo di calzini Sono tutte morbidose e calde Sono veramente tutte imbottite così E hanno tutte le regnine Sono troppo belle Cioè per casa ma Cioè che lo mettere per uscire Sono adorabili Cioè non ditemi se non sono fantastiche E poi c'era Un completo tipo per la palestra Con un leggings Molto molto carino Nero Con questa fascia Bello Non vedo l'ora di indossarlo E anche il topo sopra Perché io ne uso tantissimi Ne ho tantissimi Questo però mi piace Perché praticamente E' incrociato dietro Cosa che io adoro Poi le famose calze a cuoricini Che si erano rotte E me le ha ricomprate Le adoro troppo E sono veramente Rante belle E poi Ah c'era un'altra cosa Che volevo farvi dire Questo però non me l'ha regalato Dario ma me l'ha portato mia mamma E mi ha portato queste qua Adesso tutti quanti stanno Enfatizzando la mia ossessione Per le parigine E per le calze E me le regalano Proprio vogliono Proprio farmi impazzire Mia mamma mi ha portato Queste fantastiche Parigine Che però Sono molto particolari Innanzitutto Perché arrivano Proprio in alto In alto In alto E poi Sono più pesanti Rispetto alle normali parigine Infatti dentro Sono tutte di velluto Guardate com'è bello L'interno E' tutto fatto così Quindi poi viene il bordo Sono lisce Quindi non pelucchiose Sembrano quasi degli stivali Guardate che sono elastiche Sembrano veramente quasi Degli stivali elastici E poi portano il svolto di velluto Quindi sono molto fini Ed eleganti Anche da mettere Proprio così Con il décolleté Veramente sono belle Solo mia mamma Poteva scegliere Queste cose così Fine ed eleganti Per me Quindi La cosa più bella Della vita Sono Gli affetti E' l'unica cosa Secondo me Veramente importante Nella vita Quindi state sempre Con chi vi ama E State felici Con loro Perché la vita è bella E va vissuta giorno Dopo giorno Questo che voi Mi chiedete sempre Consigliaci qualche sito Cose da comprare In questo Black Friday Perché ci sono gli sconti Vi volevo far scoprire Questo sito Che è troppo troppo bello Guardate Poi vi faccio vedere Le cose Che ho preso io Come sono belle Sono troppo belle Per noi ragazzi Adesso ve le faccio vedere Vi faccio vedere Prima il sito Guardate com'è bello Il sito si chiama Qualescegliere.it Ed è troppo bello Perché praticamente Qua sopra C'avete tutte le recensioni I video Tutte le guide Di tutti i prodotti Vedete Vendono di tutto C'è dagli elettrodomestici Piccoli Grandi Prodotti di qualsiasi tipo Utili Vedete anche make C'è veramente di tutto E' super fornito E loro praticamente A parte ci sono degli sconti Grandissimi Per i Black Friday Veramente Proprio oggi Se andate Andate a visitare Potete approfittare Perché ci sono proprio Prodotti scontatissimi Quindi potete fare degli affari E poi loro ti fanno vedere Ad esempio Se apri Un prodotto Loro ad esempio Scegliamo Tipo questa qua La creppiera Così magari può darsi Ci esce una creppa Da dentro lo schermo No vabbè Scherzo Però guardate Ad esempio Loro ti fanno vedere Tutte le migliori offerte E poi ti fanno vedere Tutte le recensioni Ti spiegano bene il prodotto Ci sono le foto Ci sono tutte le spiegazioni È fantastico È fantastico Vi giuro Se dovete fare acquisti Questo veramente È come guardarlo da vicino Il prodotto Vi spiega tutto Io adesso vi faccio vedere Le cose che ho preso io Sembra già Natale Perché mi sono arrivati Sti pacchi E non vedo l'ora di aprirli Erano tutte cose Che io bramavo Da un sacco di tempo E finalmente con i Black Friday Ho approfittato Yeah ragazzi Approfittate pure voi Sul sito Mi raccomando Io comunque vi metto Tutti i link Dei prodotti Che ho preso io E del sito Nel box info sotto Così magari potete Accedere facilmente Comunque ho preso Questo Che è un phone Bellissimo Babyliss Che lo bramavo È troppo bello Adesso lo apriamo assieme Facciamo questo unboxing È super innovativo È bellissimo Questa è una bilancia Che praticamente è particolare Perché è bluetooth E mi serve proprio anche Per pesare la massa grassa Questa ve la sta consiglio Se siete ragazze fit Eccetera Io la volevo tantissimo Perché non si trova E invece su quale scegliere L'ho trovata E ho letto tutte le recensioni E questa Penso proprio che sia la migliore Poi ho preso la cam Questa qua Quella per Le foto in movimento Non vedo l'ora di Utilizzarla Questa anche per Le ragazze Che piace fare foto È veramente troppo Troppo carina La action cam E poi ho preso Questo qua Che è il bollitore Raga Anche questo Non vedevo l'ora Di averlo Perché io Appunto Bevo tante tisane Ma anche Comunque latte So sempre a bollire Ecco Questo qua Comunque Mi trovo benissimo Perché non sporco Il fornello Quindi erano tutte cose Veramente utili Che bramavo Da un sacco di tempo Allora Adesso Unboxing No vabbè No vabbè È bellissimo Sto fondo Raga È top È bellissimo Adoro C'è pure C'è pure il diffusore Evviva Che bello Sto aprendo tutto Questo qua È stupendo C'ha sia il diffusore Che il beccuccio Potete acquistarlo Anche voi Sul sito Qualescegliere Punto it Anche la bilancia È top Che bello Poi tutto bianco Come piace a me Che bello Questa non vedo l'ora Di pesarmi È stupenda Anche da avere in bagno È troppo bella Di solito le bilancie Sono sempre brutte Invece questa è bella Poi l'action cam Adesso la apro Quando viene Dario È il mitico bollitore Che bello Questo non vedo l'ora Di provarlo È troppo fine Carino Vedete Su questo sito Qualescegliere Punto it Praticamente Fai acquisti Intelligenti Non sbagli mai E pigli solo roba Che funziona E che buona Veramente Ragazzi Sono tanto triste Perché La mia cagnolina Si deve sterilizzare Sto aspettando A mia mamma Che mi viene a prendere Per portarla al veterinario Sono tanto triste Io l'ammo tanto Qual è la mia vita Questo cagnolino E praticamente Io rimandavo sempre Questa cosa Della sterilizzazione Perché vi giuro Avevo tanta paura Perché lei è piccolina Cioè Io ho sterilizzato Tutti i miei cani No In particolare Molli Che è l'altro Mio cane femmina Perché poi la sterilizzazione Nel maschio È più semplice Nella femmina È proprio un intervento Bisogna tagliare la pancia Avere un'anestesia Comunque raga Vi giuro Io sto terrorizzata E neanche perché tremo E mio amore Piccolo Non ti succederà nulla Non ti succederà nulla Mamma Però vi giuro Non è una mia È una cosa Che non volevo fare Però mi hanno detto Tutti che bisogna farla Questa dannata sterilizzazione Perché Praticamente I cani Se no Se non si accoppiano O dovresti farli accoppiare Sempre Perché Sviluppano degli ormoni Che possono essere Comunque dannosi E Causare addirittura Dei tumori Quindi perciò Lo sto facendo Per il suo bene Solo per il suo bene Però forse per me no Perché già so Che deve soffrire Vi giuro Sto male Se penso A quando dovranno Addormentarla Le faranno la siringa E lei è buona Buona Ci addormenterà Perché lei poi Non ringa Non fa nulla Lei ci addormenterà Buona Buona E poi ci sveglierà E non c'è nulla Di quello che le succede Mio amore Grande Amore mio Vabbè Io penso che Sto su pensando Che è una cosa Che fanno tutti i cani Si fa sempre Una cosa rutinaria Raga Pregate per me Per Pupi Mia mamma Mi ha mandato La foto Su Whatsapp Di Pupi Che si è addormentata Con l'anestesia Mio piccolo amore Ragazzi Tatà Regalino Poiché è stato Il compleanno Di David Da come avete potuto Vedere Dal vlog di Nancy Perché mia sorella Ha fatto un video Troppo bello Della sorpresa Che ha fatto a David Adatelo a vedere Auguri David Siamo qua Che a volo a volo Abbiamo comprato Un pensierino per David Che sicuramente Spacchetterà In un prossimo vlog Mia sorella Sicuramente lo riprenderà Speriamo tanto Che gli piaccia E una cosa Che a lui piace tanto Che gli abbiamo visto Che l'indossa spesso E non è una maglia Non è una cosa Di abbigliamento Vero? È particolare Speriamo bene Ragazzi abbiamo preso pupi È andato tutto bene Ci ha detto Il dottore Che è andato tutto bene Adesso si deve Un po' riprendere Riposare Anche se trema tutto Io ho paura Comunque vi darò Sicuramente aggiornamento Nei prossimi vlog E nelle IG story Nel frattempo Ve la faccio vedere Guardate come trema La mia piccolina Pupi C'è sempre la linguetta Un po' da fuori Guardate Mi so anche il suo pupaccino Amore Dai riprenditi a mamma Piccola Piccolina Tiene una ferita Sulla pancia Grandissimo La mia amore Piccola Misa Mazione Massa Nema Sulla La mia amore Sulla è E time l'an